Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, del telegiornale di Teleradio Canicattì. Il futuro della sede dell'Agenzia delle Entrate di Canicattì è legato alla decisione di otto comuni che dovranno sottoscrivere un contratto d'affitto col proprietario della struttura, un privato canicattinese dove sono sistemati gli uffici finanziari, i particolari nel servizio. Otto comuni insieme per salvare l'Agenzia delle Entrate di Canicattì ed evitare la chiusura dell'importante struttura che eroga servizi ai cittadini, alle imprese e ai professionisti. Il sindaco Ettore Di Ventura si è intestato questa battaglia che adesso è a buon punto. Dopo il vertice municipio a Canicattì per delineare il futuro dell'Agenzia delle Entrate, alla luce della decisione della direzione regionale della Sicilia che ha ufficializzato la data del 2017 per la chiusura della sede territoriale, dando di fatto una proroga all'amministrazione comunale per trovare soluzioni alternative che ne scongiurino la chiusura, la soluzione adesso sembra vicina. Di Ventura ha convocato i sindaci e gli amministratori degli altri comuni che ricadono sotto la giurisdizione di competenza dell'Agenzia in tutto otto, ai quali è stato chiesto che debbono farsi carico di un contributo per le spese che non può solo gravare sulle casse del comune di Canicattì. Il termine è slittato, dice il sindaco di Ventura, che si è sempre dichiarato contrario all'ipotesi della chiusura della sede di Canicattì, chiusura che provocarebbe pesantissime ricadute sui lavoratori, sui professionisti e cittadini costretti a costosi trasferimenti in ordine economico e di tempo. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il proprietario dell'immobile ha consentito ad uno sconto sul prezzo della locazione che attualmente ammonta a 67 mila euro all'anno e di portarla a 53 mila euro, ma riducendo lo spazio a disposizione degli uffici. C'è tutta l'intenzione, aggiunge il sindaco di Ventura, di trovare le soluzioni possibili per scongiurare la chiusura di un così importante servizio per la città di Canicattì e non solo, visto che attorno ai servizi resi dall'Agenzia ruotano ben otto comuni. La direzione regionale ci ha chiesto di trovare dei locali idoni ad ospitare gli uffici o in alternativa di farsi carico dell'affitto. Adesso stiamo valutando costi e benefici e poi decideremo cosa fare. Il contratto di affitto in sostanza verrebbe siglato tra il proprietario dell'immobile, un privato canicattinese e gli altri otto comuni che gravitano attorno all'area dei servizi resi dall'Agenzia delle Entrate. La quota a carico di ogni comune sarà ripartita in decimali utilizzando il sistema del numero della popolazione effettiva. La giunta municipale guidata dal sindaco Ettore Di Ventura ha adottato il conto consultivo 2015 per il ritardo registrato anche a Canicattì nell'adozione e lo strumento di rendicoltazione gestionale. La regione siciliana lo scorso agosto aveva nominato un commissario ad acta nella persona del funzionario Vincenzo Lauro che dopo una verifica aveva sollecitato gli organi preposti ad adottare l'atto. Lauro quindi ha diffidato il Consiglio Comunale a provvedere immediatamente. In caso contrario dove il Consiglio Comunale non dovesse essere messo nelle condizioni di deliberare sarà lo stesso commissario con i poteri sostitutivi al posto dell'organo elettivo ad approvare il consuntivo. Alla delibera di giunta, la numero 62 del 28 settembre scorso con separata votazione è stata andata anche immediata esecuzione. L'esercizio 2015 si chiude con un disavanzo tecnico di 8 milioni 574 mila euro a fronte di 9 milioni e 348 mila euro dell'anno precedente. Scontro tra maggioranza e opposizione al Comune di Portempedocle sul dissesto finanziario. Sentiamo i particolari da Adriana Licausi. Il dissesto della discordia. Tra amministrazione attiva, quella targata 5 stelle del Comune di Portempedocle e la maggioranza tutta ad opposizione in Consiglio, quello di Aula Mormino, già si scorgono idee contrastanti opposte. Il clima si surriscalda al municipio di Vigate e anche i dipendenti senza stipendio da alcuni mesi fanno sentire la loro voce, la loro rabbia che rischia di sconfinare. Dopo un incontro con il sindaco e da Carmina si sono recati dalla Presidente del Consiglio Comunale, Mari Lucaci. L'aria era molto tesa la richiesta a quella di votare il dissesto. Sì, purtroppo la situazione ormai è insostenibile. Abbiamo padri di famiglia che da tre mesi non percepiscono lo stipendio. La situazione è drammatica e quindi ci impone di trovare al più presto delle soluzioni. Però dobbiamo intanto mantenere la lucidità necessaria ed evitare in un momento così delicato di far sorgere diatribe politiche. Fondamentale che ci sia un'informazione corretta alla cittadinanza. Intanto comunico che ieri abbiamo riunito la conferenza dei capigruppo che ha deliberato il Consiglio Comunale per il dissesto finanziario per il 12 ottobre. Anche se durante la conferenza abbiamo sottolineato che ancora la documentazione non è completa e corretta. Poiché il Segretario Generale, nonché dirigente unico, il Dottore Tuminello, ha fatto pervenire al nostro ufficio una nota dove il parere positivo per il dissesto finanziario resta a condizione che venga integrata la nota dei revisori di ancora alcune parti mancanti. Noi vogliamo però provare ad accelerare i tempi e intanto portarlo in Consiglio per fare in modo che tutta la collettività possa venire a conoscenza che il Consiglio Comunale non è fermo, ma sta lavorando. Dal 5 agosto che è arrivata la prima proposta praticamente in completa, noi ogni giorno cerchiamo di riunirci continuando a chiedere i documenti necessari che non sono mai arrivati. Però ancora una volta vorrei sottolineare che il dissesto non è la panacea di tutti i mali, ma bisognerebbe pensare a delle soluzioni alternative per reperire dei fondi nel più breve tempo possibile. Infatti voglio sollecitare ancora una volta tutta l'amministrazione a chiudere il rendicondo per fare in modo di risolvere delle somme nel più breve tempo possibile. La Regione ha revocato i finanziamenti già erogati per tutti i cantieri scuola gestiti dall'ex dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Lampedusa, Giuseppe Gabriele, per delle irregolarità che hanno portato ai collaudi negativi di tutte le opere. La documentazione è stata depositata dall'avvocato Daniela Ciancimino, difensore di parte civile per conto del Comune di Lampedusa, al processo alla cosiddetta Cricca Lampedusana, dove sono imputati in 25. Il legale ha prodotto la documentazione per dimostrare il danno patrimoniale che il Comune avrebbe subito per la mancata realizzazione dei lavori e i relativi indebitamenti. La Procura ipotizza l'esistenza di una vera e propria associazione per deninquere, promossa e organizzata e diretta dall'ex sindaco De Rubens, dall'ex dirigente dell'Ufficio Tecnico Giuseppe Gabriele e dall'ex consulente Gioacchino Giancone. Il deputato nazionale di Forza Italia Riccardo Gallo esprime solidarietà e incoraggiamento a padre Giuseppe Giammusso e alla comunità della Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù ad Agrigento scossa dai due ingenti del 23 e del 28 settembre scorsi tra sagrestia e l'ufficio attiguo di padre Giammusso. L'onorevole Gallo aggiunge, padre Giammusso e la sua attività pastorale ad Agrigento sono punto di riferimento ormai storico e consolidato. L'impegno costante e quotidiano del sacerdote e della comunità che lo circonda sono una fonte preziosa e rinunciabile di educazione e di sana crescita delle generazioni che si susseguono. Confido nell'operato degli investigatori e invito Don Gianmusso e la sua attività missionaria a mantenere inalterate le proprie opere ad Agrigento. A tre anni dal naufragio del 3 ottobre 2013 a largo delle coste Lampedusa in cui morirono 368 migranti non si arresta il ciclo di vite spezzate anche di bambini nel tentativo di raggiungere l'Europa via mare. Secondo le stime di Save the Children almeno 600 bambini avrebbero già perso la vita o risulterebbero dispersi nel Mediterraneo nei primi nove mesi del 2016, un numero che ha già superato il totale di oltre 500 minori dello scorso anno. Tre anni fa le immagini delle bare dei migranti allineati nell'hangar dell'aeroporto i Lampedusa portarono con forza all'attenzione del mondo il dramma di chi è costretto ad affrontare i viaggi molto pericolosi per fuggire a guerre, persecuzioni e povertà estrema. Mai più promisero allora le istituzioni europee eppure il Mediterraneo continua a mietere vittime con più di 10.400 uomini, donne e bambini morti o dispersi dal 2014 ad oggi. Con l'obiettivo di salvare quante più vite umane possibili, la ONG ha avviato un'operazione nel Mediterraneo attiva dal 7 settembre. Ad oggi la nave di Save the Children ha già tratto in salvo circa 600 migranti in quattro diverse operazioni, tra cui 85 minori, alcuni dei quali molto ma molto piccoli. Ha confessato Antonino Spatola, 37 anni di Menfi, e ha ottenuto nello scorso mese di febbraio gli arresti domiciliari. L'11 novembre inizierà il processo a suo carico per rapina ai danni di un'anziana del paese. Spatola è stato ammesso all'abbreviato condizionato a sentire in aula la persona offesa, appunto l'anziana. Nell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice, Roberta Nodari del Tribunale di Sciacca, il 36enne menfitano avrebbe ammesso di avere partecipato alla rapina l'8 maggio del 2014 ai danni dell'ottantenne di Menfi. Da quella rapina lui avrebbe ricavato appena 30 euro, mentre il resto del bottino, circa 400 euro e alcuni oggetti in oro in argento, sarebbero andati ad altri. Spatola avrebbe però dichiarato di aver avuto un ruolo marginale nella rapina e di non avere colpito l'anziana. L'ottantenne è stata colpita ad un polso con un forcone per farle mollare la presa, mentre tentava di non far entrare in casa i rapinatori e poi con uno scaffo sul naso. Ci sono anche alcuni giudici del Tribunale di Agrigento, tra i dieci magistrati che hanno presentato istanza per coprire il posto di Presidente del Tribunale di Sciacca. Sono in corsa Alfonso Malato, in servizio nell'ufficio giudiziario di Agrigento, dopo essere stato rispettore al Ministero della Giustizia Luisa Turco e Giuseppe Merisenda Giambertoni, Presidente di sezione da Agrigento. C'è anche Walter Carlisi, Magistrato di Sorveglianza da Agrigento. Una delle dieci domande è stata presentata è di Enzo Agate, Magistrato Mazzarese che per dieci anni è stato impegnato a Sciacca ed ha anche presieduto il Collegio del Processo di Mafia Scacco Matto. Agate nel 2011 ha lasciato il Tribunale di Sciacca per trasferirsi alla Corte d'Appello a Palermo. Un altro Presidente di sezione che ha presentato domanda è Sergio Gulotta Trapanese impegnato al Tribunale di Marsala. Tra le dieci domande è anche quella di Antonio Tricoli, ispettore al Ministero della Giustizia. Giuseppe Arnone, avvocato difensore dell'ingegnere Alberto Avenia nel processo per il crollo dello stabile di via del Carmine a Favara che costò la vita alle due sorelline Chiara e Marianna Bellavia, esprime la propria soddisfazione per la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Santo Fornasier, di assoluzione del proprio assistito. La procura di Agrigento prendendo atto delle tesi difensive dell'avvocato Arnone ha preso atto quindi della correttezza dell'operato dell'ingegnere Avenia all'interno dell'ufficio tecnico del comune di Favara. Da lunedì scorso sono state rilevate delle disfunzioni alle linee telefoniche del comune di Canicati. Impossibile mettersi in contatto con quasi tutte le sedi comunali a causa di un guasto tecnico. L'unica struttura a non essere interessata è quella di via Cesare Battisti, secondo quanto verificato dal responsabile dei servizi informatici Luigi Di Rocco, il quale ha provveduto immediatamente a segnalare il problema alla compagnia telefonica che gestisce gli impianti. I tecnici incaricati stanno adoperandosi a garantire l'immediato ripristino del servizio. Lunedì 3 ottobre ricorre il 64esimo anniversario e compleanno del giudice Rosario Angelo Livatino, assassinato dalla mafia il 21 settembre del 1990. Le associazioni Tecropolis e amici del giudice Rosario Livatino, assieme alla postulazione della causa di beatificazione con l'amministrazione comunale, hanno prolungato la settimana e hanno inserito nuove iniziative. Oggi a concesio in provincia di Brescia si farà memoria del giudice Livatino con la consegna del premio internazionale della bontà Paolo VI per la legalità e la testimonianza coraggiosa nell'affermare i valori della legalità. Lunedì 3 ottobre a Messina, presso l'università di facoltà di giurisprudenza per iniziativa del movimento Nuova Presenza Giorgio Lapira, si terrà con inizio 17 la consegna dei riconoscimenti pro bono veritatis e pro bono giustizia a persone e associazioni che si sono distinte per l'impegno sociale sul fronte della legalità e della giustizia. Cambiamo argomento, elezioni dell'ex provincia dei vertici, il presidente e l'assemblea dell'ex provincia si vota il 20 novembre ma sono elezioni di secondo livello, cioè avranno diritto solo i sindaci e i consiglieri in carica nei 43 comuni della provincia. I dettagli. I protagonisti sono loro, sindaci e consiglieri comunali dei 43 comuni agrigentini chiamati a scegliere il presidente e i 12 componenti dell'assemblea provinciale. Non ci sarà la giunta. Il 20 novembre si andrà alle urne per l'elezione del presidente del libero consorzio comunale. Sono candidabili i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero consorzio. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica. Questo prevede la norma regionale che però risulta in contrasto con la legge nazionale. Infatti il sottosegretario di Stato per gli affari regionali ha osservato che siano eleggibili a presidente della provincia i sindaci il cui mandato scadano un prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. La stessa previsione riferita all'elezione del presidente del libero consorzio comunale è stata abrogata. Questa soppressione, secondo Roma, è suscettibile di configurare una violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione in relazione al rispetto dei principi di uguaglianza sancito. Partiamo quindi dall'elettorato attivo, cioè dai votanti. Il presidente libero consorzio e il consiglio saranno eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia utilizzando il meccanismo del voto ponderato. Cosa vuol dire voto ponderato? E soprattutto come si calcola? Ciascun elettore, sindaco, consigliere comunale esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice di ponderazione. Questo indice rappresenta sostanzialmente il peso del voto di ciascun elettore determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui si è sindaci o consiglieri comunali. Come avviene il calcolo dell'indice di ponderazione? La nostra provincia è composta da 43 comuni, incluse le isole di Lampedusa e Linosa, che hanno un solo sindaco e un unico consiglio comunale. Secondo quanto previsto dalla legge, questi comuni, in base alla loro popolazione, vengono suddivisi in cinque diverse fasce. 12 comuni che rientrano nella fascia fino a 3.000 abitanti, Comitini, Gliopolo Giancazio, Calamonaci, Sant'Angelo Muxaro, Villa Franca Sicola, Lucca Sicola, Camastra, Santa Elisabetta, Montallegro, Burgio, Castro Filippo e Alessandria della Rocca. 9 comuni da 3.000 e un abitante fino a 5.000 abitanti, Montevago, San Biagio Platani, Cianciana, Caltabellotta, Bivona, Cattolica Araclea, Siculana, Real Monte e Santo Stefano di Quisquina. 10 quelli da 5.000 e un abitante fino a 10.000 abitanti, Aragona, Racalmuto, Castel Termini, San Giovanni Gemini, Naro, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita, Cammarata, Sambuca di Sicilia e Grotte. 8 sono invece quelli da 10.000 e un abitante fino a 3.000 abitanti. Palma di Montechiaro, Ribera, Porto Empedocle, Raffadali, Arese Menfi, Ravanusa e Campobello di Licata. E da 5 quelli da 30.000 fino a 100.000 abitanti, Agrigento, Sciacca, Licata, Canicati e Favara. Alcuni consigli comunali sono stati eletti nel 2016 con le nuove norme. Quindi Menfi, Porto Empedocle, Favara e Canicati hanno già un numero di consiglieri comunali ridotto rispetto a quelli degli altri comuni appartenenti alla stessa fascia. Il Presidente del Libero Consorzio Comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri in carica dei comuni appartenenti al Libero Consorzio Comunale. Sono elegibili a consigliere i sindaci e consiglieri comunali in carica. Siglato l'accordo tra l'Anci Sicilia e la Regione Siciliana per la realizzazione del patto di stabilità regionalizzato con flessibilità orizzontale per l'anno 2016. Si tratta di uno strumento che permette agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per effettuazione di spese, soprattutto in conto capitale, senza incorrere nella violazione del patto di stabilità. Il meccanismo si fonda sulla cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo prefissato in favori di quelli invece che rischiano di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo. Tali spazi finanziari non possono essere utilizzati dagli enti che le acquisiscono per la spesa corrente discrezionale, ma soltanto per effettuare spese in conto capitale, ovvero spese capaci di incidere positivamente sul sistema economico. Riprendiamo con il nostro telegiornale, si è riunito l'ATI di Agrigento, vediamo cos'è emerso nel servizio di Claudio Spoto. E' partito il conto alla rovescia, l'ATI idrico di Agrigento dopo una fase di rodaggio è pronto ad entrare in azione a pieno regime e lo farà il 10 ottobre, ma dall'insediamento ad oggi, sono trascorsi i tre mesi, non siamo stati con le mani in mano, assicura il sindaco di Menfi Vincenzo Lotà, presidente del consiglio direttivo dell'ambito territoriale, chiamato a governare il servizio in provincia di Agrigento. Tra 10 giorni entriamo in funzione con il passaggio delle consegne da parte dell'ex commissario del lato all'ATI. Abbiamo lavorato innanzitutto su tutto ciò che riguarda le delibere emanate da parte dell'autorità per l'energia che sovrintende ai servizi idrici e anche ai servizi dei rifiuti. Stiamo lavorando sull'adeguamento alla nuova tariffa. Per quanto riguarda il problema della risoluzione del contratto, noi con i dirigenti Acque siamo molto motivati in base a quello e al mandato che ci hanno dato i consigli comunali. Però intendiamo attenerci alla normativa attuale perseguendo un obiettivo che è quello di una gestione che sia efficiente, efficace e soprattutto a basso costo nei confronti degli utenti. Stiamo lavorando per studiare quelle che possono essere eventuali motivazioni e cause di risoluzione se saranno supportate e quindi noi sicuramente andremo avanti. E prima di prendere le redini in mano e di assumere decisioni importanti la nuova governance del lato idrico intende mettersi all'ascolto, confrontarsi. E ieri sera, momento di interlocuzione con i comitati pro acqua pubblica e con le associazioni dei consumatori che spingono senza tanti giri di parole alla recessione della convenzione con le girgenti Acque. E' inutile che ci riempiamo la bocca di adeguamento di tariffe, di cambiare la bozza, di cambiare il regolamento d'utenza o la carta dei servizi senza che vi sia la reale volontà a mandare a casa questo gestore perché ovviamente a non aver rispettato le condizioni contrattuali non dimentichiamocelo, non sono i cittadini ma è il gestore che con comportamenti vessatori nei confronti dei cittadini utenti ha fatto in modo che ovviamente questa gestione non rispondesse effettivamente ai criteri di efficienza e di economicità così come doveva essere nel momento in cui gli è stata affidata la gestione a girgenti Acque. Dalle parole bisogna passare i fatti. Senza dubbio, dalle parole bisogna passare i fatti. Ricordiamoci che la Regione Sicilia ha votato una legge in favore della ripubblicizzazione dell'acqua e non può non tenere presente i disservizi nella gestione del servizio. Tutte tappe di avvicinamento ma non si arriva mai al nodo centrale. Esattamente, questo è quello che noi oggi abbiamo chiesto a questo organo. Sì, una collaborazione alla quale noi, o meglio, ci ha chiesto una collaborazione per una nuova rideterminazione del servizio idrico ma che non sia un'ulteriore perdita di tempo che si arrivi veramente alla difesa del cittadino consumatore che oggi è stango di ricevere sopplusi sia dai disservizi del servizio idrico sia dal governo di questo servizio idrico che oggi è stato completamente assente per una volontà politica chiara e netta. Si acquisce lo scontro tra l'amministrazione comunale di Ricata e la dedo all'ambiente, l'autorità territoriale d'ambito che si occupa del ciclo integrato di rifiuti in città e in altri quattro centri dell'agrigentino. In occasione dello sciopero degli operatori ecologici del cantiere di Ricata che protestano perché non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di agosto, il sindaco di Ricata, Angelo Cambiano, e l'assessore all'ambiente, Carmelo Sambito, oggi defenestrato, hanno mosso pesanti critiche al lato AG3, il primo cittadino annunciato che a breve il comune uscirà dal dedo all'ambiente. Dopo le prime delicate settimane di avvio della raccolta differenziata a Castrofilippo comincia ad assestarsi il nuovo sistema di gestione che prevede la raccolta separata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, umido e indifferenziato. I converimenti di scarica hanno subito un'ingente contrazione a fronte di una raccolta differenziata in cui i numeri in termini di tonnellate sono molto soddisfacenti. In vista anche di importanti novità logistiche e organizzative, l'isola ecologica godrà di importanti lavori migliorativi dal punto di vista della pavimentazione, dell'illuminazione e della videosorveglianza, un utile deterrente contro l'abbandono dei rifiuti. L'amministrazione comunale di Racalmuto ha approvato nell'ambito delle attività di servizio civico il progetto Obiettivo Giovani. In questi due anni, dichiara il sindaco Emilia Omessana, ci siamo impegnati a lenire il disagio sociale. Abbiamo utilizzato le risorse disponibili che non sono tante per un comune in predissesto finanziario e recuperato tanti progetti finanziati negli anni passati che giacevano nei cassetti. Questo progetto è un segnale di attenzione, dice Emilia Omessana, nei confronti delle giovani generazioni nell'auspicio che presto possano trovare la strada per inserirsi nel mondo del lavoro e realizzare le loro legittime aspirazioni. L'annuncio del Premier Matteo Renzi sulla cancellazione 2017 della parte della IRPEF agricola dovuta alle rendite catastali rappresenta un ulteriore elemento di sostegno concreto alla Sicilia, in particolare di un comparto che nella nostra isola occupa una posizione centrale sul piano economico e occupazionale. Lo dice Alice Anselmo, presidente del gruppo parlamentare dell'ARS, quindi del Partito Democratico all'ARS. Da parte nostra, giunge Anselmo, già nella prossima finanziaria regionale lavoreremo a nuove misure per l'agricoltura siciliana. L'ARS, così come nel governo regionale al fianco e l'assessore Antonello Cracolici, il PD è impegnato a sostenere quello che può e deve tornare ad essere il vero motore della Sicilia per promuovere economia, sviluppo e occupazione. Due gare d'appalto sono in fase di aspettamento, un finanziamento è appena arrivato, facendo lievitare di quasi 8 milioni di euro l'intervento complessivo che verrà effettuato per ampliare la banchina, realizzare uno scalo di alaggio, sistemare le strutture esistenti e creare una passerella che collegherà il porto al Museo del Mare di Sciacca. Tutto questo verrà realizzato a Sciacca con l'obiettivo di ridare slancio a un settore, quello della pesca, che soffre di una crisi che negli ultimi anni ha già allontanato molti operatori. Restiamo a Sciacca, sono stati consigliati i lavori di completamento della palestra del liceo scientifico Fermi, il Consorzio Stabile a Valori di Roma, che si è giudicato il relativo appalto, ha avviato le operazioni preliminari di cantiere che daranno poi via libera ai lavori veri e propri. Si tratta di un progetto inserito a suo tempo nel piano triennale dell'Opere Pubblica dell'ex provincia di Agrigento relativo ad uno dei due lotti residui del complesso edilizio del liceo Fermi di Sciacca. Il consigliere comunale del gruppo Uniti per la città di Agrigento Marco Vullo, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona di via Manzoni, di via Dante e via Callicrati del campo sportivo, che lamentano l'assoluta mancanza di illuminazione pubblica, che continua a verificarsi ripetutamente, ha trasmesso una rota al sindaco Filetto, agli uffici competenti perché intervengano alla risoluzione del problema. Da una prima analisi, scrive il consigliere Vullo, sembrerebbe che vi sia un guasto al contatore centrale che disattiva l'erogazione di corrente elettrica nelle strade, arrecando grave danno alla pubblica incolumità. C'è l'esigenza reale, conclude Vullo, di risolvere la problematica con assoluta urgenza. Il sindaco Lillo Filetto, siamo ancora ad Agrigento, rivendica la sua azione sull'edilizia scolastica. Ecco cosa è stato fatto in un anno da quando cioè Filetto è a capo dell'amministrazione del comune di Agrigento. Sentiamo. Lillo Filetto difende a spada tratta quanto fatto dalla sua amministrazione nel settore dell'edilizia scolastica. In questi mesi, dice Filetto, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento negli immobili di proprietà del comune, abbiamo provveduto a recuperare le somme del programma straordinario di interventi sul patrimonio scolastico finalizzate alla messa in sicurezza alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali. Questi interventi, aggiudicati contro il rischio di perdere nel finanziamento, ammontano complessivamente 653 mila euro di lavori che consentono la messa in sicurezza di numerosi edifici scolastici garantendo requisiti essenziali in tempi non differibili. A ciò si aggiunga anche l'affidamento del servizio di indagini diagnostiche strutturali sui solai ed indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e controsoffitti, cofinanziati congiuntamente al Ministero dell'Istruzione, che ha destinato complessivamente risorse per 27 mila euro per altri 5 edifici scolastici. Interventi di grande sostanza, dice Filetto, che dimostrano il più responsabile interesse dell'amministrazione comunale sui temi della riqualificazione e della bonifica degli immobili destinati a scuola, rispettando le esigenze primarie della popolazione scolastica e delle famiglie che affidano anche alla sicurezza dei luoghi l'educazione dei propri figli. In alcuni casi, conclude il Sindaco di Agrigento, per un adeguato e corretto svolgimento dei lavori saranno concordate con l'istruzione scolastica soluzioni alternative per lo svolgimento delle lezioni nel tempo necessario a ripistino delle aule, socializzando il percorso degli interventi al fine di ridurre quanto più possibile il disagio arrecato per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico i cui fondi non possono in alcun caso andare perduti. L'erosione della costa agrigentina al Comune di Agrigento nel corso della conferenza di capigruppo coordinata dal Vicepresidente Gianluca Urso è stato deciso che entro questo mese di ottobre si riunirà un tavolo tecnico per affrontare l'emergenza. Saranno coinvolti diversi soggetti tra protezione civile, demanio, marittimo, regione e imprenditori. E la Presidente del Consiglio Comunale, Daniela Catalano, aggiunge è stato proposto un consiglio comunale straordinario ma sarebbe stato limitativo perché il problema dell'erosione della costa non è politico ma ci troviamo davanti ad una situazione più grande di noi. Un corso per imprenditori turistici e impiegati comunali che si occupano di classificazione di strutture ricettive è stato organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento e si terrà in due giorni, il 12 e 13 ottobre prossimi. C'è tempo fino al 6 ottobre per potersi iscrivere il servizio. Titolari di strutture ricettive a lezione dall'ex provincia di Agrigento programmata l'organizzazione di incontri formativi in materia di autorizzazione e classificazione e vigilanza sulle strutture ricettive nel settore turistico. Gli incontri sono stati predisposti dal settore turismo del Libero Consorzio di Agrigento in programma il 12 e 13 ottobre dopo la conferenza dei servizi che si è svolta lo scorso 8 settembre per discutere di strutture ricettive e anomalie nel settore turistico. Gli incontri si svolgeranno in orario antimeridiano con inizio alle 9 nell'aula Silvio Pellegrino in via Crone ad Agrigento. L'incontro formativo del 12 ottobre è rivolto prioritariamente ai dipendenti dei comuni, in particolare addetti o responsabili dello sportello unico delle attività produttive oltre ai funzionari della Camera di Commercio. Altri operatori del settore pubblico verranno accolti nei limiti dei posti disponibili. L'incontro formativo del 13 ottobre è invece indirizzato principalmente ai responsabili di strutture ricettive che si occupano di amministrazione e accoglienza ai rappresentanti delle associazioni di categoria ma anche agli altri operatori del settore privato che intendono avviare una struttura ricettiva. Il programma dei corsi, la scheda di iscrizione ed altro materiale possono essere scaricati sul sito internet dell'ente. Gli interessati a partecipare dovranno trasmettere la richiesta entro il 6 ottobre. La partecipazione è gratuita e comprensiva di materiale didattico per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al numero 0922 593661. Il presidente Giuseppe Vinci ha convocato per lunedì 3 ottobre alle 19.30 presso la sala consigliare Palazzo Comunale e il Consiglio Comunale di Campobello di Licata. L'ordine del giorno, l'azzeramento della giunta municipale guidata dal sindaco Gianni Piccone, la nomina della nuova giunta e la verifica della maggioranza consigliare. La pagina dello sport, importante sfida oggi pomeriggio per il canichetti calcio di mister Giovanni Falsone. La squadra incontrerà in trasferta l'Ares Menfi, capolista del Girone. Vediamo i particolari. Dopo il pareggio senza reti interno contro la Sancis, con l'ipoteca sul passaggio del turno di Coppedale di promozione, dopo la convincente prestazione di mercoledì al Saraceno di Ravanusa, risultato di 4-1 per i biancorossi, il canichetti di mister Giovanni Falsone affronta oggi la capolista Ares Menfi. Fischio d'inizio alle 15.30 al Comunale di Menfi per una delle gare più importanti di questo avvio di campionato. Infatti, dopo 270 minuti giocati, la classifica vede in testa a punteggio pieno 9 punti il Menfi di mister Stefano Pizzitola, che annovera tra i grandi campioni il bomber Pasquale Galluzzo e l'atletico Ribera del presidente Pasqualino Borsellino. Il canichetti invece si ritrova con 7 punti, staccato di due lunghezze dalle capolista e in condominio con la libertà Saracalmuto. Quindi oggi l'imperativo per gli uomini del presidente Sandro Giglia sarà quello di vincere per regalare ai tifosi una domenica da capolista in attesa di conoscere il risultato tra Ribera e Salemi, che giocano domani pomeriggio. In casa Menfi sono già da tempo proiettati al confronto interno con il canichetti, una squadra molto forte, accreditata alla vittoria finale. Spero che ci sia una bella cornice di pubblico a incitare questi ragazzi, dice il presidente del Menfi, l'avvocato Viviani, che stanno facendo molto bene e lavorano settimanalmente e con tanto impegno e professionalità. Quella di oggi pomeriggio infatti sarà un primo importante banco di prova per la Res Menfi, che affronterà una formazione considerata dagli addetti ai lavori come la squadra da battere, ma con un gruppo di giocatori che sta iniziando ad esprimere un buon calcio e che può contare sull'entusiasmo scaturito dalle ultime vittorie. L'impresa per i menfitani non appare così tanto ardua. Dalla parte del canichetti, mister Falsone si dice fiducioso, rientra Guarnotte Di Maria, sta meglio. Mercoledì in Coppa Di Maria ha dimostrato di avere recuperato anche se la condizione fisica non è ancora ottimale. Confermato il tridente Pirrot Tarantino Falsone, queste le altre gare della quarta giornata del campionato di promozione si chiuderanno martedì 4 ottobre le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del Rally Terre di Pirandello, prevista per sabato 8 e domenica 9 ottobre. L'agricento Rally e la società Tempo hanno messo in calendario una gara da rally ricca di storia. Oltre all'aspetto puramente agonistico, vuole trasmettere cultura attraverso i luoghi resi famosi dalla penna di Luigi Pirandello. Fulcro dell'intera manifestazione è il piazzale Caos, casa natale Pirandello, in cui si svolgeranno le verifiche tecniche e amministrative, la direzione di gara, i riordini e il parco assistenza. All'interno di piazza Cavourri, nel centro cittadino, sarà invece posizionato il palco partenza e arrivo. Anche le musiche del sesto reggimento dei bersaglieri di Trapani onoreranno la giornata promossa dal Comune di Gela per Monica Contrafatto, l'atleta gelese reduce dal bronzo delle Paralimpiadi di Rio. La campionessa è proprio caporal maggiore scelto dello storico corpo militare, la cui partecipazione al Teatro Eschilo è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa che ha illustrato il programma della cerimonia. Monica Contrafatto è stata accolta al teatro dalle istituzioni dei suoi concittadini. Un momento corale, hanno spiegato il sindaco Domenico Messinese e l'assessore Licia Bela, in cui ogni realtà cittadina dalle associazioni e club service ha omaggiato Monica con grande entusiasmo. La manifestazione è stata curata anche dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentare. Oggi alle 17 al centro polivalente di Campobello di Riccardo si terrà la quinta giornata nazionale delle biblioteche a cui aderisce anche il Comune. L'iniziativa viene organizzata a livello nazionale dall'Associazione Italiana Biblioteche e vede coinvolte tutte le biblioteche di tutta Italia che vi aderiscono. A Campobello l'evento promosso dal sindaco Giovanni Picone e dalla sua amministrazione si terrà a partire dalla 17 e sarà incentrato sul viaggio tra storia e letteratura. Il titolo della manifestazione è infatti Storie in viaggio. Ci sarà una mostra fotografica di Giovanni Amato dal titolo Istante. Organizzata dall'Istituto Gangitano di Canicattisi, svolge domani una passeggiata in bicicletta che coinvolgerà gli studenti della scuola diretta dal preside Ivan Capucci. Ci spiega i dettagli l'insegnante Rosalita Amato. Domenica la passeggiata in bicicletta è consuetudine di questa scuola, di questo istituto, quella di portare i ragazzi all'uso sano anche di abitudini sane come la bicicletta. Sarà una festa allora per i ragazzi? Chi deve partecipare? Allora sarà una festa, una festa a cui ormai siamo abituati per dare inizio all'anno scolastico. Sono invitati tutti i nostri alunni, i genitori, le famiglie che insieme ai docenti percorreranno le strade di Canicattì. Noi amiamo iniziare il nostro anno scolastico in questa maniera proprio perché ci piace iniziarlo in maniera ludica, perché vogliamo rendere molto dolce e armonico il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, a cui i nostri alunni non sono abituati e perché comunque precede questa attività a tutte le altre, anche di carattere culturale più impegnativo, che si susseguiranno nel corso dell'anno scolastico. Cosa prevede il programma? Prevede un percorso, partiremo da Largo Osta, percorreremo le varie vie della città e poi comunque il termine sarà sempre a Largo Osta, dove i genitori potranno venire per prelevare i propri figli. Ovviamente con la vigilanza della polizia municipale il percorso è segnato e molto sicuro. Ci piace peraltro credere e immaginare questa passeggiata in bicicletta come la metafora di questo percorso e di questo viaggio che ci vede insieme, docenti e alunni, vivere quest'anno scolastico 2016-2017. Da lunedì 3 ottobre riprende la programmazione informativa di Teleradio Canicati. Ritornano sui nostri schermi martedì alle 20 faccia a faccia, venerdì alle 20.40 occhio sulla città e poi l'indimenticabile, sempre presente, la bambolina. Oggi parliamo di chi. Non dimenticate quindi l'appuntamento informativo con i nostri programmi a partire da lunedì prossimo 3 ottobre. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale che si conclude qui. Vi auguro di trascorrere un buon weekend e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.